Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal posto Dark Chaos 92 Oggi sono qui per mostrarvi i 5 punti della sfida appunto completa prove a tempo Quindi questa qua che vedete dove passo io la freccettina Ok? Questa qua, perfetto Niente, vi farò vedere solo e esclusivamente i 5 punti che vi segnerò appunto nella mappa Uno per uno e niente, spero che questa guida vi piaccia E mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella soprattutto E lasciate un bel like, bella regà Eccoci qua ragazzuoli, il primo punto esatto dove attivare la prova a tempo si trova precisamente qui dove ho messo il punto io Qua sotto, sotto palmetto paradisiaco e adesso vi farò vedere come si fa Io non lo so, quindi è la prima volta, attiviamo Ok, che cacchio Ok Figata Che figata raga Dov'è l'altro? Ok qua Bombich Prima prova completata Adesso passeremo alla seconda GG guys Ok, eccoci qua ragazzuoli Nel secondo posto dove attivare la prova a tempo che si trova precisamente qui a corso commercio Ok, attiviamo la prova a tempo Eccolo qua Primo preso Secondo preso Terzo preso Quarto preso Quinto pure Sesto pure Settimo Ottavo E si finisce Andiamo alla terza posizione Bella raga Ok, eccoci ragazzi L'altro punto è qui al rifugio ritirato E' stra difficile Oddio Ci riusciamo Vai Let's go E ci siamo riusciti Il punto esatto E' precisamente Ve lo dico subito Ok Il punto esatto E' precisamente qui Nella casa Sopra la casa Di rifugio ritirato Mi raccomando ragazzuoli Ok Ci vediamo Alla Quarta Giusto? Al quarto punto Bella raga Tra poco Eccoci qua ragazzuoli Questo è il quarto punto Attiviamo Dov'è? E come faccio qui? E' impossibile E' difficile E' impossibile E' difficile Due Tre Quattro Quattro con questo No Non ce la facciamo Raga Cacchio No Vabbè Comunque In questo caso Raga Il quarto punto E' precisamente Qui Qua Qui c'è il quarto punto Adesso passiamo Al quinto punto Bella raga Eccoci qua ragazzuoli Nel punto esatto Della quinta posizione Dove si deve attivare La prova a tempo E' precisamente Qui In questo punto Dove c'è crocivia del Cerpame Montaglio le maledette Questo è il punto Preciso Proprio il centro Di questo punto Qua Ok E' Niente Che vi devo dire Raga Penso sia facile Penso sia Sono facile Queste missioni Alla fine Quindi non è che Sono difficili Le ultime due Sono un po' Rompipalle Però Sono fattibili Dai Vi ringrazio ancora Eh Sì Questo è difficile Vi ringrazio ancora Per la visione Raga Un bacione immenso Dalla vostra casa E' dal nostro Nico Cabons E noi Ci vediamo In una prossima guida Di Fortnite Bella Raga